Fase conclusiva per il percorso del tavolo sicurezza sostenuto da Prato partecipa. Il 19 settembre alle 21 a Palazzo Pacchiani incontro con il Forum Sicurezza Urbana. Il 26 si parlerà di urbanistica e sicurezza dei luoghi. Il 29 invece nella sede sociale di Via Tintori incontro con lo scrittore Bran. Gli ultimi due appuntamenti, il 3 e il 10 ottobre, sempre a Palazzo Pacchiani, saranno dedicati alla stesura di proposte concrete da presentare alla Giunta. L'informativa che riguarderà soprattutto la riqualifica e la prevenzione, visto che nel mese di giugno abbiamo parlato di sicurezza. Poi dopo discuteremo insieme tutte le proposte che i cittadini hanno inviato per le diverse aree tematiche che erano state scelte nel mese di luglio e formuleremo tutti insieme la proposta definitiva per fare una lettura all'inizio per poter dare anche dei miglioramenti tutti insieme e poi per fare una lettura definitiva e stabilire come e quando presentare le nostre proposte, tutto il nostro lavoro alla città, alla stampa e soprattutto al Consiglio Comunale. Occorre intervenire radicalmente e territorialmente in modo articolato con delle richieste specifiche di cui naturalmente faremo menzione nei prossimi giorni.